L'Inolium World. E ristrutturare non è più un problema. Oggi ristrutturare casa e ufficio non è più un'impresa, al contrario. Da Linoleum World trovi assistenza, professionalità e una vasta gamma di materiali per tutte le soluzioni. Linoleum World è l'azienda specializzata nella fornitura e posa in opera di parquet, moquette, pavimenti in linoleum, in gomma e in PVC. Pavimenti sportivi, sopraelevati e laminati. Controsoffittature in cartongesso, in gesso, in fibra minerale e alluminio, pareti divisorie e in cartongesso. Visita il nostro showroom a Napoli Riviera di Chiaia 31. Per contatti 081 248 21 29. Linoleum World. Professionalità e qualità. Da sempre.